Io non avrei problemi a dirmi mi scoperei Cruciani o mi scoperei Parenzo, è proprio che non so se loro sono da... Probabilmente lo saranno perché questi problemi non si ripongono Credo che Parenzo no Io però posso dire una cosa su questo, che Parenzo secondo me è un po' stranino, nel senso che fa tutto il pudore, io ho la dignità, il tuo lavoro, il tuo lavoro Però io vedo che mi guarda in maniera un po' strana durante le riprese della Zambia